Sono una persona positiva, questo lo so perché comunque cerco sempre, non ci sono state sempre solo momenti belli nella mia vita come è normale, nella vita di tutti, cerco sempre di vedere qualcosa di positivo, cioè comunque il mio motto è la vita è una, va vissuta e quindi cerchiamo di tipo medicina, io ho insistito perché prima non sono entrato, ho fatto biotecnologie e invece io no, io non voglio fare un'altra cosa, io voglio fare quello, è lo stesso in tutte le cose. E poi rido molto, questo è vero, infatti me lo dicono tutti e mi dicono anche che non sto mai ferma e ci può essere, non so, ho bisogno di scaricarmi, non lo so, quindi sicuramente sono un tipo allegro.